Letteratura, diritto e diplomazia per lo sviluppo integrale della persona umana e questo è il tema della terza edizione del Festival del Diritto organizzato quest'anno nel comune di Civitanova del Sannio. L'evento di promozione culturale, giuridica e sociale è stato ideato tre anni fa dallo scrittore e giornalista Marco Runcalli, pronipote dell'omonimo Papa e coordinato dall'avvocato Luigi Fantini. Attraverso questo evento noi intendiamo, e qui anche le ragioni del conferimento di un premio in media e comunicazione e valorizzare quelle che sono le tecniche, gli strumenti proprio della comunicazione e della negoziazione perché attraverso questi strumenti è possibile o distruggere e conosciamo situazioni che vanno dal terrorismo alla corruzione, alla morte di magistrati, ovvero sì a costruire, quindi generare processi di cooperazione, di sviluppo e di pace e quindi qui si possono immaginare tante situazioni quali per esempio iniziative volte a evitare i campaninismi, a creare cooperazione, infatti oggi qui ci sono rappresentanze di sindaci, autorità provinciali, regionali, proprio nell'ottica di generare cultura, di solidarietà e generare ponti. A fare da cornice all'evento il premio speciale media e comunicazione a uno dei massimi esperti, Monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali della Santa Sede e con la partecipazione speciale di una guardia svizzera pontificia, Guillaume Favre, a servizio del Papa da 13 anni. Allora io mi occupo, diciamo faccio parte dello Stato Maggiore, mi occupo dell'organizzazione interna al corpo, sono in carica della formazione, la formazione continua, nonché capo dell'aiuto, il sostegno alla condotta. Penso che la comunicazione e il diritto siano due, diciamo, temi molto importanti oggi, si tratterà anche sicuramente del protocollo, insomma, delle relazioni internazionali. Due omaggi infine avvenuti durante l'evento, uno al sommo poeta Dante Alighieri nel settimo centenario della sua morte, grazie all'attore Corrado Oddi e uno ad Ennio Morricone, grazie alle musiche eseguite da un quintetto musicale. L'obiettivo, secondo Paolo De Chiara, giornalista e moderatore dell'incontro, quello di avvicinare i cittadini alla cultura e ai temi sociali. Nell'edizione di quest'anno ci sono personaggi rappresentativi che possono, diciamo, dibattere e discutere su tematiche importanti e senza dimenticare anche l'importanza di altri personaggi che non sono più in vita. Uno, diciamo, da diversi anni, da troppi anni, manca a questo paese, che è Dante, che abbiamo bisogno della sua arte poetica e letteraria. E poi c'è il ricordo di un altro maestro della cultura di questo paese, Ennio Morricone, quindi ci sono questi elementi che sono stati messi in maniera sublime insieme e credo sia un buon, diciamo, punto di partenza per riavvicinare i cittadini e le persone che si occupano di questa tematica alla cultura e a temi giuridici e sociali.